La Toscana si disegna insieme, non può essere altro che così perché questa è la nostra tradizione. Così l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli in un incontro che si è tenuto presso la Casa della Musica nel Palazzo di Fraternita ad Arezzo che aveva come tema la nuova stagione del governo del territorio, la legge 65, piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Le linee guida sono il contenimento del consumo di nuovo suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e il recupero di aree degradate. Stanno avendo successo i piani strutturali intercomunali che sono uno strumento importante perché consentono ai comuni di fare una previsione delle strategie in maniera unitaria su territori di area vasta. Ci aspettiamo circa 159 piani strutturali e 200 piani operativi. L'altro aspetto importante è che tutela e sviluppo non sono in contrapposizione, anzi sono tutte e due componenti di un corretto sviluppo sostenibile e durevole, proprio così come recitano le premesse sia della legge sia del piano paesaggistico. Non sempre i periodi di congiuntura economica favorevole come quello che abbiamo vissuto in passato hanno portato a esempi tutti positivi, anzi abbiamo assistito anche a esempi negativi. Per questo è importante la rigenerazione dello spazio urbano, in questo senso la normativa dà una mano, anche se c'è ovviamente la complessità delle risorse economie e sono necessari a rigenerare spazi che avevano altre funzioni che devono essere invece riportati all'utilizzo della collettività.